Un ringraziamento questa sera al vicepresidente della FIPAV Giuseppe Manfredi che ringrazio per essere nuovamente intervenuto a Studio 100. Vicepresidente più cordiale saluto. Grazie a voi e un saluto a tutti, voi e a tutti i telespettatori. Allora facciamo il punto sulla pallavolo in Italia. In questo momento voi come sapete tutti quanti gentili telespettatori seguiamo la prisma per quanto riguarda il campionato di A2. In generale la fotografia del momento, vicepresidente. Non mi sembra un grandissimo momento per la pallavolo e per tutti. Intanto ha fatto bene a mettere in evidenza la prisma perché la prisma è una delle società che in questo momento sta continuando a giocare, che sta tenendo vivo il nostro movimento. In questo momento sono fermi tutti i campionati minori dalla B in giù. Gli unici campionati che si stanno disputando sono i campionati di serie A maschile e femminile. Diciamo che purtroppo devo dire che nonostante tutti gli sforzi fatti dalle società per riprendere, purtroppo in questo momento non riusciamo ad avviare il settore giovanile, non riusciamo ad avviare, chiaramente per motivi che voi comprendete benissimo, tutta l'attività della nostra pallavolo. Vicepresidente, tante partite però sono rinviate, ad esempio nel campionato di A2. Vedi la situazione riguardante proprio la prossima gara della Prisma Volley, quella con Siena che praticamente non dovrebbe disputarsi. Poi ci entreremo su questo tema, ma le società stanno chiedendo delle risposte chiare. Che cosa dobbiamo aspettarci da parte della FIPA va breve? Dobbiamo aspettare sicuramente tempi migliori. Per il momento le società di Serie A, le nostre società di Superlega, sono davvero da considerare società eroiche che con tanti sacrifici stanno continuando a fare un campionato difficilissimo. È chiaro che tante partite sono state rinviate, bisognerà recuperarle. Chiaramente non possiamo parlare di un campionato regolarissimo secondo i canoni, che sempre ha contraddistinto la nostra attività, però bisogna dire che in questo momento è molto, ma molto, molto importante che si giochi, che si dia comunque un segnale di continuità. E io devo ringraziare veramente di cuore queste società e laddove staremo molto vicini in questo momento. È possibile uno slittamento della Coppa Italia di A2 per recuperare le partite come ipotesi o è troppo campata in aria? Allora, innanzitutto si tratta di un'attività che è gestita dalla Lega, ma credo che sicuramente qualche modifica probabilmente ci sarà al calendario, perché in questo momento secondo me è molto importante andare a recuperare innanzitutto le gare non fatte. So che in questo momento si deve interrompere il campionato per consentire, per quanto possibile, di poter recuperare le gare non disputate. È chiaro che la difficoltà c'è nella gestire questa situazione, quindi dobbiamo vivere momento per momento l'evolversi di tutto il campionato. Ha definito la Prisma Volley una società eroica. La Puglia, la sua Puglia, è eroica in questo momento? Beh, diciamo che abbiamo diversi team di Serie A maschili e femminili che stanno continuando a fare l'attività. In questo momento la Puglia è una regione molto importante nel panorama nazionale, soprattutto per il settore giovanile maschile che esprime. La Prisma devo ringraziare sinceramente quando ho saputo che Bon Giovanni ha rilevato il titolo del Castellana, sono stato molto contento perché si tratta di un appassionato, di una persona che comunque in passato ha fatto tanto per il lavoro, credo che ci siano le premesse per poter far bene. Abbiamo due società in A2 che hanno un organico che sicuramente può mirare a salire. Io voglio ringraziare il Vice Presidente Giuseppe Manfreti della FIPAV, lo ringrazio, lo saluto e alla prossima volta Presidente quando non ci sarà più il Vice davanti e quindi lo saluterò in maniera differente allora. È in bocca al lupo, questo me lo faccia dire a prescindere e grazie per quello che ha fatto e quello che continuerà a fare per la pallavolo. Grazie, grazie a voi, anche per quello che fate voi, per lo sport in genere e per la pallavolo. Ci risentiamo quando volete. Grazie al Vice Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi, un ringraziamento a Marco Trozzi per quanto riguarda l'ufficio comunicazione proprio della FIPAV a Roma che ci ha permesso questo collegamento. Come sapete, gentili amici, Giuseppe Manfredi è l'unico candidato per quanto riguarda la Presidenza della FIPAV, praticamente abbiamo parlato con il Presidente della Federazione Italiana a pallavolo da qui a breve.